Lunedì è stato ucciso un operatore straniero delle Nazioni Unite mentre si recava in un ospedale di Rafah su un veicolo contrassegnato. Un altro dipendente è rimasto ferito. L'IDF ha dichiarato di aver avviato un'indagine affermando che il mezzo dell'ONU transitava in una zona di combattimento attivo. Intanto le truppe israeliane continuano a penetrare nelle zone abitate nella parte orientale di Rafah, mentre sempre più persone lasciano disperate la città. I lunedì decine di coloni israeliani hanno assaltato un convoglio umanitario diretto a Gaza vicino a Hebron. Hanno bloccato i camion, gettato a terra i pacchi di aiuti e dato fuoco ai veicoli. Per la terza volta in meno di una settimana i coloni hanno anche attaccato la sede dell'Urwa a Gerusalemme Est, lanciando pietre e appiccando un incendio nel cortile. Grazie 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 Grazie